I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno celebrato la patrona dell'arma Virgo Fidelis. La funzione religiosa, presieduta da Don Alberto Levrini e da Don Alberto Vivenzio, cappellano militare del 28esimo reggimento Pavia, si è svolta oggi alle 11 presso la chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo di Pesaro. Una giornata di grande importanza, carica di fede e orgoglio per l'arma, che oggi commemora anche l'ottantesimo anniversario della battaglia di Kulquaber, che ebbe luogo il 21 novembre del 1941 in Africa. Un intero battaglione di carabinieri si sacrificò per tre mesi nella difesa del caposaldo di Kulquaber e di caduti, vengono ricordati oggi nella preghiera dei carabinieri. Questa giornata è molto importante perché rappresenta il nostro momento di vicinanza tra tutti i militari, sia in servizio che in congedo, ma anche un momento particolare perché commemoriamo anche la giornata dell'orfano e ci permette di essere vicini a quelle che sono le famiglie di chi ha perduto i loro cari. Alla funzione religiosa ha partecipato una rappresentanza di carabinieri e di carabinieri forestali in servizio nei vari comandi della provincia e dell'arma in congedo. Presente anche il prefetto di Pesaro, Tommaso Ricciardi, insieme al comandante provinciale, tenente colonnello Gianluigi Cirtoli. Soprattutto in questo momento dobbiamo garantire quella che è la vicinanza alla popolazione e chiediamo alla popolazione di esserci vicini perché il nostro lavoro è sempre più difficile in una società sempre molto più accelerata in un momento così particolare come quello pandemico.